ciao a tutti oggi voglio far vedere un buon risultato che uscì il 5 novembre dal mio sistema che ho fatto ultimamente sistema lotto ambo in quartina allora andiamo subito con l'estrazione che vi faccio vedere adesso del 5 novembre appunto e allora da calcolare quella prima praticamente dovrebbe essere allora vediamo un po' su Cagliari si 27 esatto è questa 27 48 51 90 53 l'andremo a posizionare qui nel mio sistema allora 27 48 allora 27 48 51 90 e 53 clicca invio ok questo è il mio programma che potete trovare a pagamento non costa molto sul lo lascio nel link sotto è un sistema molto valido anche se c'è da stare molto cauti come vi spiegherò più avanti allora vediamo i risultati che ha dato questo che sono 9 53 59 e 34 allora la seguente uscì andiamo a vedere allora abbiamo detto quella del 5 novembre su Cagliari 27 48 51 90 53 infatti quella dopo ha dato 83 9 50 34 e 77 possiamo vedere che 9 e 34 ambo in quartina uscito 9 e 34 potete vedere benissimo la data che uscì è quella di dell'8 novembre a Cagliari 9 34 eccolo qui quindi direi che è un buon risultato per chi ci può puntare almeno 5 euro sull'ambo si si prendeva almeno 195 euro erotti allora voglio dire una cosa e c'era stare molto cauti perché spesso o esce solo un numero oppure tante volte non da nulla io non voglio illudere nessuno perché non è semplice perché se fosse semplice non sarei qui sarei alle Maldive con tante signore belle e buonanotte devono capire le poche persone che cliccano sul dislike meno male che sono poche perché la maggior parte cliccano sul like e si iscrivono e sono contento però per le poche persone che cliccano sul dislike e vogliono vincere subito al primo colpo questo era il primo colpo e tra l'altro voglio dirvelo che questo è da giocare per il primo colpo e niente dicevo e chiudo la parentesi per quelle poche persone che poi si arrabbino perché non vincono subito non diventano milionari subito e voglio dire loro che se io sapessi come fare ovviamente non sarei qui a fare video quindi chiusa un attimo questa parentesi questo sistema ha dato quell'ambo che vi ho detto 9.34 al primo colpo però c'è da stare molto cauti come vi dicevo perché è un sistema che è valido sì però tante volte o non da nulla o da un numero bisogna stare molto cauti quindi è da giocare per il primo colpo è un sistemino che ho fatto io non costa molto e niente che dire per adesso è tutto mi raccomando iscrivetevi in tanti sono contento che tanti si iscrivano meno male che tanti la maggior parte clicca sul like e non sul dislike comunque sono contento e niente per adesso è tutto se volete il mio programma vi lascio il link sotto costa relativamente poco quindi potete acquistarlo quando volete per adesso è tutto ah un'altra cosa chi acquista il programma comunque una volta inserite le caselle qui non salvi mai non deve mai salvare il programma è sempre meglio non salvarlo perché se succede qualcosa magari ne calcoli dentro non si sa mai che quindi quando finite la vostra previsione lasciate così spegnete qui chiudete qui con la x e non fate mai salva come in questo caso dite sempre no qui vi chiederà fate sempre no e avete il vostro programma sempre intatto per adesso è tutto ci sentiamo al prossimo video ciao a tutti grazie grazie